Noi siamo qui a Padernello oggi per far conoscere Pizzighettone. Pizzighettone è città murata di Lombardia, sede dell'associazione città murata di Lombardia, ha la caratteristica di essere circondato per intero da mura storiche che lambiscono per intero il centro storico a cavallo di un fiume che è l'Adda. Queste mura hanno la caratteristica di non essere terrapienate ma di essere vuote al loro interno. La loro riscoperta è iniziata 24-25 anni fa quasi per gioco una scommessa iniziata da un gruppo di amici che si sono messi a disboscare le mura interamente coperte da vegetazioni infestanti. Ne è uscito un vero e proprio tesoro che da allora si è cominciato a restaurare al fine della pubblica fruibilità. Oggi all'interno delle mura nelle case matte si fanno oltre una ventina di eventi l'anno. Tra questi i più importanti sono a maggio, il terzo fine settimana di maggio, la Tre Giorni in Piazza che è una fiera merceologica e poi per i morti tra fine ottobre e inizio novembre i fasolini dell'Ech con le Cude che è il nostro piatto tipico delle solennità dei defunti. Le mura vengono trasformate in una osteria di una volta con tavoloni e panche, mille posti a sedere, i cammini accesi che sono cammini d'epoca ancora oggi perfettamente funzionanti e è una manifestazione che ci permette di restaurare le mura. Infatti ogni anno il ricavato viene interamente devoluto per proseguire i lavori di restauro e di manutenzione della nostra cerchia muraria. Abbiamo attivo un ufficio turistico da oltre vent'anni con una quarantina di accompagnatori turistici che tutte le domeniche e il pomeriggio accolgono visitatori e li portano alla scoperta di Pizzighettone Città Murata di Lombardia. Inoltre durante l'estate nei mesi di luglio e agosto dalle ore 21 presso l'ufficio turistico partono dei tour guidati alla scoperta di Pizzighettone Città Murata di Lombardia by night alla luce di fiaccole, torce e padelle romane. Se volete consultare dei siti www.pizzighettone.it slash turismo La manifestazione più importante dell'anno sono i fasulin de l'oche con le cudeghe. Quest'anno, anzi nell'edizione del 2015, ne abbiamo preparati 64 quintali. In porzioni, per tradurla in porzioni, sono oltre 18.000 porzioni. In tavola poi sono andati anche altri prodotti tipici del territorio, tra cui il provolone e pizzighettone della nostra latteria, che è una cooperativa di soci esclusivamente pizzighettonesi. Il fasulin de l'oche con le cudeghe, il fagiolino dall'occhio con le cotenne, lavorano circa 280 volontari del paese di tutte le età e proprio per questo stiamo aspettando da Slow Food il riconoscimento di comunità del cibo. È un piatto a filiera corta, non a chilometro zero, ma addirittura a metro zero. Tutte le materie prime sono di esclusiva provenienza del nostro territorio. A chiudere il cerchio della filiera corta ci mancava solo l'ingrediente principale, cioè il fagiolino dall'occhio, che veniva coltivato sul nostro territorio fino agli anni 60, poi una cultura che è stata tralasciata perché poco redditizia e scarsamente remunerativa. Fino a quattro anni fa andavamo ad acquistarlo a Cuneo, che è la seconda zona italiana di produzione per eccellenza, giusto per non acquistare quelli che venivano dal Peru. Da quattro anni ci siamo messi a coltivarli. Abbiamo cominciato con un campo sperimentale, siamo arrivati a quattro campi. Lo scorso anno ne abbiamo prodotti dieci quintali, cinque quintali vengono utilizzati per produrre il piatto durante la nostra festa e cinque quintali vengono venduti secchi durante la festa e dati ai ristoratori locali che dopo il successo di questa festa hanno reintrodotto questo piatto dimenticato nei rispettivi menu dove lo si può trovare fino a primavera inoltre.